A partire dal 5 agosto Trenitalia introdurrà il nuovo biglietto digitale per i treni regionali acquistabile su app, sito Trenitalia, agenzie di viaggio e altri operatori abilitati. Il biglietto digitale consentirà una maggiore flessibilità. Una volta acquistato sarà infatti possibile effettuare un numero illimitato di cambi data e ora fino alle 23.59 del giorno precedente il viaggio. Il check-in si può effettuare nell'area I miei viaggi del sito oppure dall'app Trenitalia o collegandosi al link presente nell'email o sms ricevuto al momento dell'acquisto del ticket.